Ok, vi facciamo sentire il rumore della Tesla Ecco, questo è il rumore che fa la Tesla Vabbè, stiamo andando a 95 km l'ora Però questo è il rumore che fa la Tesla Visto che ce l'avete chiesto Si è rotta, per quello non fa rumore Perché siamo in discesa Dietro c'è una Volkswagen che spinge